Oltre 10 piazze, praticamente tutte le vie del centro storico coinvolte, più di 200 eventi che allieteranno la quattro giorni di Friuli Doc, numero triplicato rispetto allo scorso anno tra degustazioni, laboratori, convegni, attività sportive con il villaggio dello sport. Più di 100 stand sparsi nell'area della manifestazione, 60 concerti di cui quattro grandi spettacoli dal vivo nel parco principale di Piazza Libertà con Shari, Caprila e Danze nel giorno dell'inaugurazione e ancora 200 artisti coinvolti, 7 palchi posizionati nelle vie del centro. Tutto questo e non solo sarà Friuli Doc 2024. Beh, è 30 annale, 30 anni per un uomo e una donna è il punto di massima spinta psicofisica, anche questo evento, 30 anni, è un bel traguardo, abbiamo voluto arricchirlo, potenziarlo, darlo ancora più significato. È una grande vetrina del Friuli, dei suoi prodotti anoganastronomici, della sua cultura, del suo sport, dei suoi testimonial. Avevamo qui presenti con noi i Fovolars Full Land dall'Australia, di Perse, ma anche dall'Assazia. Quindi una grande occasione per mettere insieme tradizione, futuro, partecipazione popolare. Si parla ovviamente anche del tema sicurezza raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni, con 2400 ore complessive impiegate per le attività legate ad essa, 6 infopoint dislocati lungo le vie dell'accesso, quasi 20 postazioni per i servizi pubblici e 6 erogatori di acqua potabile a disposizione del pubblico. Da meno 15 anni che si parla di sicurezza, però è chiaro che è un'attenzione particolare, non solo la si ama, la si deve avere, perché i piani vengono condivisi chiaramente con la questura. Noi investiamo circa 66 mila euro, quasi 70, sull'implementazione della sicurezza, quindi insomma gli steward che gireranno, presideranno, oltre alle forze dell'ordine che faranno il loro lavoro. Presidi anche sanitari, chiaramente attenzione all'ambiente sulla differenziazione dei rifiuti, quindi insomma c'è un grande pacchetto, una grande macchina che si muove.